ola 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 buongiorno signori io sono max Deberrofronzo benvenuti alla cos'è strada qua alla serie dedicata ad airstone per quanto riguarda la lega degli esploratori la città fattiscente come vedete ora è disponibile e in più ci sono anche le missioni infliggi 100 danni ai nemici e le rerolliamo immediatamente perché ci fa caccare il cazzo vero? vero? bene che merda vabbè le faremo tutte con lo sciamano perché facciamo schifo naturalmente sono le 4 del mattino perché non ci piace fare del male allora io dovevo fare starcraft ma la seconda missione di starcraft è molto difficile la seconda missione dell'epilogo di starcraft e io non sono ancora riuscito a registrare una puntata nella quale effettivamente risolvo questa missione dunque io oggi faccio uscire airstone e warcraft e se non vi va bene non so che cazzo farci perché tipo non posso fare i miracoli e a registrare tre giochi diversi mi dà il diritto o quanto meno la possibilità di intervallarli un attimino perché sì oltretutto faccio anche la convenienza delle persone che magari si sono anche rotto il cazzo di vedere sempre starcraft io non mi rompo mai il cazzo di vedere starcraft però così allora questo che non so giocare a star ok ecco la nuova ala e sono i 4 il mattino quindi come l'altra volta son cretino e mi tembrano il biglietto tanda 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 il terzo pezzo del bastone la perla delle maree si trova nella giungla di rovotort serpino se già sul posto ma non riesco più a contattarli benissimo cosa potrebbe andare storto i naga hanno catturato pinnus sbrigati prima che se lo mangino i naga hanno catturato pinnus è stato catturato evoca un naga affamato scelgo posso scegliere il cosa che voglio io sì dragon scarab che ho fatto vedere qualche tempo fa l'altra volta mi hanno fatto notare tra l'altro che io ho giocato la partita con il mazzo base del prete perché non ho visto che si poteva andare nella cosa dopo però va bene se sto mazzo fa cagare pazienza d'accordo perché peggio di quelli base non può essere se perdiamo vuol dire che la vita fa schifo oddio che cazzo si relaggia bc da ma diciamo così per marte il fatto a aspetta bellissimo la mano dei sogni questo cosa fa grazie è ora di cena stasera abbiamo zuppa di morlock oraltro di morte salva seppure e impedisce si non c'è problema amico no bastardo allora cosa facciamo silenzio è un demone ogni idea inflige cinque danni che mi piace di più così dopo facciamo cinque danni bam questo oh che bello guarda quanta gente che evoca il signore e ovviamente trada tutto no non trada un cazzo perché vedete e allora scusa io posso fare così fare così ok ah e però lo devo picchiare va bene rinvieni un nuovo potere eroe di base ma no ma a me piace il mio potere eroe di base da fuck cosa si è fatto che non ho capito ha infuriato è il suo potere va bene che ci possiamo fare non possiamo fare un cazzo cosa facciamo evochiamo totemi totemi a minchia mettiamo serpillo o come funziona io non metterai serpillo io farei un totem e via totem del taunt a posto tu devi per forza attaccare ah 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 spiegato bravissima sì ma noi non abbiamo niente da picchiare ecco ho un drago in mano ovviamente no però fa corpo il che non è male questo serve per suscitare salute direi di far così dai anche se non abbiamo draghi e pazienza che ci possiamo fare speriamo che questo tizio non abbia qualche roba strana che decuplica il potere solo e solamente se c'hai draghi ma no pesca due carte fornisce quattro potere presenza incombente va bene carte equilibratissime carte assolutamente inutili quindi rinveniamo un nuovo potere che sarebbe stato carino utilizzare per l'ultima volta il totem ma non fa niente allora cosa facciamo pesca una carta e subisce danni o equipaggia un pugnale diciamo pesca una carta e fatti due danni perché noi siamo contenti così e a me piace pescare ecco fantastico intanto in più ci curiamo perché siamo stronzi quindi possiamo andare in faccia e via se non altro deve spendere due a turno per fare questo trick qua attenzione e a 5 mana evoca pisello attenzione l'animaccia degli mortacci sua questo qua è brutto però non tanto perché io posso tipo fare così non diventa più un problema di cui ci dobbiamo occupare posso addirittura pescare non ho un drago cioè questo è un drago quindi dopo potrò effettivamente utilizzare il potere spacchiamo il provocatore e andiamo in faccia a questa cosa come siamo tattici cos'è sta roba mamma mia che carta orribile da vedere penso che la ignoreremo bellamente tipo o forse no no si la ignoreremo bellamente perché perché guastarsi la vita non ha senso fare nulla questo neanche questo non ha senso questo neanche quindi proprio andiamo dritti in faccia e via che cazzo non pesco perché sarebbe stato da pescare prima e facciamo fine del turno si lo so che più due attacco però al massimo arrivi a 4 questo mi da grosso fastidio bene facciamo dunque ho tre danni si quindi possiamo fare così fare così a posto poi posso fare così e andare di faccia con tutto il resto perché tanto continuiamo ad avere drag in mano abbiamo una board presence piuttosto grande e lui lui va contro altre 1 va a 6 di vita e se non trovo il modo di sparecchiare la board ho comunque più di 10 danni si perché ne ho 10 solamente con questi due lui è la furia del ghiaccio però noi abbiamo vinto no si si perché non tradda bene quindi possiamo addirittura fare gli sborroni con una cosa del genere e poi facciamo scarica elementale tipo BOOM e poi picchiarlo con il martello solo un momento collega finisci quel naga LOL che bello abbiamo anche triggerato la la come si chiama l'animazione di di morte hai la mia gratitudine gentile collega vuoi che ti conduca all'ultimo pezzo eh si grazie Rospo gigante Randro di morte inflege un danno nemico casuale carta inutilissima tipo se controlla un altro robot rinvieni un robot costa troppo se non saremmo una carta forte tipo papappapapapapapa papapapapapapa ha detto vabbè con lo stesso turno di Pinno tra l'altro per chi se lo ricorda Pesca delle carte finché erano lo stesso numero d'avversario pillo grosso, sconfiggi questo murlo con il gigante per raggiungere l'ultimo pezzo signori, la puntata di oggi di questo cazzo di coso è terminata, vi ringrazio di avermi seguito per cortesia mettetemi un mi piace barra un commento sotto questo video se effettivamente vi è intrattenuto se volete fermarvi qui iscrivetevi pure al mio canale che schifo non mi fa e considerato che non altro è rimasto a dire da MaxTaberFronzo adios a todos